con una terminologia diversa e quindi farei dei casini perché comunque sono anziani e quindi farei dei casini perché praticamente per lei salto stretto e scusso, per lui è scusso, per lei è scusso, per lei è scusso, per lei è passa e per lui è l'alarno Poi c'è, io io ho...